Noi siamo degli innovatori all'interno del nostro mondo. C'è una grossa innovazione perché stiamo crescendo e vogliamo crescere sempre di più e quindi c'è un supporto che noi diamo agli agenti che entrano nella nostra reddita. Un supporto che è dato dalla pubblicità, fatta, diretta, con vari mezzi. Ci sono dei clienti tra le pubbliche amministrazioni che sono amiche, che sono i nostri clienti. Per cui questo deriva dal fatto che abbiamo una certa conoscenza di quello che facciamo e quindi riusciamo sempre a vincere anche le gare. Diamo degli strumenti che ripetiamo possono essere di valido supporto. E poi siamo anche conosciuti. Cerchiamo agenti motivati che vedano in noi la possibilità o di incrementare il loro lavoro perché hanno la possibilità di imparare anche dei nostri servizi o addirittura un domani, una volta che hanno verificato, fare il salto e venire da noi. Buongiorno, se ti occupi di pubblica amministrazione, fermati. Oggi ti parlo di Mivi S.P.A., azienda storica. Esiste da decine di anni ma fa anche volumi di fatturato molto importanti. Decine di milioni di euro di fatturato di questa azienda ma sta crescendo ulteriormente perché sta portando ai porti dei servizi molto richiesti dalla pubblica amministrazione. Quando si ha una serie di prodotti che rispondono all'esigenza e sei leader in questo mondo è ovvio che vendere, non dico che sia facile, ma è molto più facile perché abbiamo un interlocutore che risponde a queste necessità. Ti racconto di cosa si occupa Mivi in questa intervista in cui parliamo di come una serie di servizi aiuta le pubbliche amministrazioni ad avere sostanzialmente più liquidità quindi necessità molto impellente e lo faccio col presidente in questa intervista. Se sei interessato chiaramente alla fine del video vedrai tutte le indicazioni per candidati di entrare in contatto con questa azienda che sta dicendo tantissimo sul mercato ipercompetitivo. Buona intervista. Sei un agente, venditore, un professionista della vendita? Benvenuto su TuoAgente.com dove ogni settimana intervistiamo per te le migliori aziende con cui collaborare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in anteprima tutti i video dedicati al mondo della vendita. Buongiorno a tutti, oggi ho il piacere di avere mio ospite Luigi Nicosia, presidente di NivSPA. Buongiorno e benvenuto Luigi. Buongiorno, buongiorno a voi. Nell'intro ho già parlato un attimino di Nivi, siete un'azienda storica, state crescendo tantissimo, siete specializzati nel portare alla pubblica amministrazione tantissime soluzioni su delle necessità veramente sentite. Però vorrei Luigi che tu ci spiegassi perché Nivi sta andando tanto forte, già molto conosciuta in questo mondo e che tipo di soluzione portate al vostro mercato. Perfetto, allora intanto diciamo che è un'azienda storica perché con questo sono 61 anni che Nivi è sul mercato. C'è stata un'evoluzione nel mondo sempre del recupero crediti e negli ultimi vent'anni siamo molto forti, hanno diventato molto forti per una specializzazione nel mondo del recupero crediti per le pubbliche amministrazioni o meglio nel settore della notifica delle sanzioni elevate a cittadini stranieri e quindi a livello internazionale. Questo è il nostro skill principale per cui poi si ripadono gli altri servizi. Quindi in realtà aiutate le pubbliche amministrazioni a recuperare della liquidità che per una pubblica amministrazione è veramente difficile e quindi le aiutate poi fu un'esigenza particolarmente a cuore, immagino. Sì, esatto. Per esempio abbiamo dei clienti storici, il gruppo Autostrade, Aspi, tutte le altre autostrade, credo l'85% delle autostrade italiane sono clienti nostri ed è una storia molto lunga perché con questo sono 35 anni ininterrotti nei quali noi abbiamo questo tipo di clienti. Ci sono dei clienti dalle pubbliche amministrazioni che sono anni, che sono i nostri clienti. Per cui questo deriva dal fatto che abbiamo una certa conoscenza di quello che facciamo e quindi riusciamo sempre a vincere anche le gare e ad essere, diciamo, tra i nostri clienti, a fornire i nostri servizi. Che immagino sia anche il motivo principale per cui il vostro cliente sceglie voi non solo grandi aziende come Autostrade ma anche l'amministrazione del comune che poi fa parte del vostro portofolio. Anche quella piccola perché magari nella piccola amministrazione c'è più bisogno di supporto. Quindi noi diamo questo supporto. Se posso, le faccio anche un esempio, il supporto a un piccolo comune, a una piccola amministrazione. Per esempio noi lavoriamo nel mondo delle sanzioni amministrative, di violazione al codice della strada, oppure violazioni amministrative di altri tipi, edilizia, eccetera, e molto spesso i cittadini fanno ricorso e molto spesso la maggior parte dei comuni manca un supporto per andare dal giudice di pace o in prefettura a discutere il ricorso. Per cui si trovano senza, diciamo, questo supporto. Noi diamo questo supporto con i nostri avvocati, con il nostro ufficio legale. Questa è una particolarità, però è esplicativa del tipo di azione che facciamo. Non abbiamo il tempo di parlarne oggi, in questa mia intervista, ma vi garantisco che parlando con Nivea S.P.A. c'è un corollario di servizi che davvero risponde a moltissime esigenze della pubblica amministrazione in questo caso. Voi state crescendo, state cercando nuovi collaboratori commerciali, agenti, esperti di vendita che siano inseriti in questo contesto. Quali sono le caratteristiche che ricercate una nuova collaborazione negli agenti con cui avrete il piacere di collaborare? Beh, innanzitutto la conoscenza del servizio. Poi magari uno può venire anche da forniture, diciamo, utensili o altro, perché il venditore ha magari degli skill che può replicare anche in settori diversi. Però noi preferiamo persone che sanno che cos'è un tipo di servizio e magari hanno avuto a che fare con le pubbliche amministrazioni, che è un mondo un po' particolare nel quale si lavora. Quindi questo è quello che noi ricerchiamo. Poi c'è una grossa innovazione, perché proprio stiamo crescendo, vogliamo crescere sempre di più, e quindi c'è un supporto che noi diamo agli agenti che entrano nella nostra retta. Un supporto che è dato dalla pubblicità fatta, diretta, con vari mezzi, ma anche dai convegni. I convegni sono molto importanti, da edizioni tecniche di libri ai quali noi mettiamo il nostro marchio, perché siamo magari stati noi ispiratori di quel parere. perché questi libri poi sono di pareri tecnici molto utilizzati dai comuni. O facciamo fare, prendere gli appuntamenti dai nostri uffici commerciali interni, per cui tante volte la gente, oltre ad avere la sua la sua maniera di entrare nel comune, di cercare i suoi contatti, anche noi forniamo questi contatti. Abbiamo un CRM molto importante, molto interessante, molto attivo, che aiuta più che altro la gente a andare nel mercato, per cui diamo degli strumenti che ripotiamo possano essere di valido supporto. E poi siamo anche conosciuti, molto conosciuti all'interno. Sì, confermo, perché poi avendo fatto un'indagine posso confermare che siete molto conosciuti all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi avere già un brand conosciuto aiuta la gente a essere molto più efficace. L'ultima domanda che voglio fare, Luigi, è questa. In realtà, in parte abbiamo già risposto, perché abbiamo parlato delle armi che riuscite a dare agli agenti, parliamo di un brand conosciuto, dei servizi che veramente rispondono a delle esigenze che hanno questi clienti, marketing, visibilità, notorietà, quindi tutti aspetti che aiutano la gente potrebbe essere molto più efficace e quindi avrà un prodotto o servizio vendibile. L'ultima domanda è, oltre a questo, ti senti di dire una frase che un agente, un bravo agente dovrebbe candidarsi e conoscervi, quindi collaborare con voi. Perché dovrebbe farlo? Ma, allora, innanzitutto avrebbe dei servizi che generalmente la concorrenza nel nostro settore che, pur essendo molto agguerrita, non ha. Noi siamo degli innovatori all'interno, diciamo, del nostro mondo. Poi magari ci copiano qualche anno il vantaggio competitivo che abbiamo assunto, diciamo, poi rimane. Quindi, dei servizi di qualità e dei servizi competitivi. Questa è una cosa importante. Poi, noi cerchiamo degli agenti che, se sono interessati a rimanere all'interno di Nivi non con un plurimandato, magari anche un domani con un monomandato, perché hanno visto che il futuro può essere molto più interessante che lavorare per più aziende, noi siamo molto ben contenti di aiutare poi la gente a fare questa scelta. Quindi, cerchiamo agenti motivati che vedano in noi la possibilità o di incrementare il loro lavoro, perché hanno la possibilità di parlare anche dei nostri servizi o addirittura un domani, una volta che hanno verificato, fare il salto e venire da noi. Direi che ci sono tutti i presupposti di presentare agli agenti una soluzione che li porti anche a migliorare la loro posizione professionale, i loro skill che hanno nel mercato già acquisito con un'azienda che sicuramente ha tantissime armi. Certo. Luigi, per me è stato un piacere raccontare questa azienda che, per quello che conosco, già da qualche mese confermo avere tante arme commerciali di servizio che sono interessanti per i più gravi, quelli che veramente amano portare innovazione nelle pubbliche amministrazioni. Per me è stato un piacere. Grazie. Buon lavoro e buon business. Grazie, a presto, arrivederci. Buon giornato. a presto. Grazie a tutti